Il tuo posto è vicino a Dio. Oggi ti invito a viaggiare nel tempo con me. Torniamo al giorno in cui Dio creò l'uomo. Così Dio creò l'uomo a sua immagine. A immagine di Dio lo creò. Maschio e femmina li creò. Genesi 1,27. Esaminiamo questo versetto. Dio ha creato l'uomo e gli ha dato un nome. Adamo. Gli ha affidato la gestione di tutto il creato. Genesi 1,28. Adamo è rimasto nel giardino fino alla caduta perché era il suo luogo originario pianificato per lui. Adamo avrebbe dovuto vivere nel giardino dell'Eden alla presenza di Dio il più vicino possibile al Signore. Ecco cosa desidero sottolineare. Lo scopo di Dio quando creò l'uomo e la donna era quello di avere una relazione con loro. Avrebbe potuto farli abitare in qualsiasi altro luogo della terra ma scelse di farli vivere il più vicino possibile a sé. Il nostro Dio è un Dio di relazione. Non siamo stati creati per essere separati da Lui. Dio ti ama ed è veramente suo desiderio essere sempre con te. In ogni momento, in ogni tempo, è possibile per te andare nel giardino della sua presenza. Lì dove regnano la vita, la pace, la provvidenza e la gioia. Sei stato creato per sperimentare tutto questo ogni giorno della tua vita e soprattutto oggi. Quindi non aspettare più. Entra alla presenza del Signore dove si trova il tuo vero posto perché sei una sua creazione. Se vuoi puoi anche iniziare questo momento ascoltando la bellissima canzone di adorazione di Cari Job intitolata Il Giardino. Grazie di esistere. Eric Sellerie Grazie a tutti.